L'onorevole Ricciardi che ci ha tornato a trovare, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Voglio sentire Ricciardi. Ma sì, la questione è abbastanza semplice, ovvero ci sono tre forze su quattro della maggioranza del governo Conte II, più la componente di tabacci che esprimono il nome del Presidente Conte come imprescindibile per fare questa sintesi, non vediamo come non possa essere Conte il premier designato di questa maggioranza. Quindi ora c'è pieno rispetto del lavoro che sta facendo il Presidente Fico, sono i tavoli che stanno cominciando ora, insomma, a breve, e quindi è aperta una crisi per noi, continua ad essere incomprensibile, si è detto vogliamo parlare di politica, noi parlavamo di politica e parlavamo soprattutto di quello che serviva agli italiani tutti i giorni, siamo pronti anche ad affrontare questi tavoli, le nostre commissioni sono pronte a riassumere, a riportare al tavolo quello che noi riteniamo necessario per uscire da questa pandemia e per affrontare la crisi economica e sociale di questo Paese. non ci tiriamo certo indietro, anzi, noi di proposte ne abbiamo sempre fatte e sempre ne faremo, quindi è l'ultima cosa che ci spaventa, insomma. E allora sentiamo Ricciardi. Quando il movimento è nato sento che è in difficoltà e mi perdoni la battuta, quando gli altri movimenti mantengono le loro posizioni sono coerenti, il movimento è conservatore, quando gli altri partiti o movimenti parlano al loro interno è sana dialettica democratica, per il movimento sono spaccature. Oramai siamo abituati, io volevo anche rispondere però a quello che è stato detto prima. Il governo negli ultimi 40 giorni, giusto due dati, ha fatto un decreto natale dove 628 milioni di euro sono arrivati dopo una settimana nelle tasche dei cittadini, con questi ristori giusto per Natale, sta avviando, continuando un piano di vaccinazione che non doveva mai partire secondo i disfattisti, è partito, nonostante quello che sta succedendo con le case farmaceutiche dove l'Italia ha tenuto il punto, l'Italia è il primo paese in Europa per somministrazione di vaccini per media di abitanti. Quindi l'Italia sta portando, il governo sta comunque portando avanti e ha portato avanti queste cose. È stato votato uno spostamento di bilancio all'unanimità di 32 miliardi, eravamo pronti e siamo pronti e non vediamo l'ora di emanare questo benedetto decreto ristori molto sostanzioso che sicuramente non aveva bisogno di una crisi di governo in questo momento, questo è oggettivo, ma del Mastro la colpa non è certo nostra insomma, quindi non siamo stati noi ad aver fatto questa crisi di governo. Io credo che ovviamente se anch'io fossi all'opposizione farei determinati discorsi perché che questa crisi sia un enorme assist alle opposizioni questo non lo nega nessuno insomma. A proposito di pallacanestro c'è qualcuno calzato la palla per andare a schiacciare in maniera molto, però per l'altra squadra. No, 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 ma mi scusi, la Lega è stata al governo con Berlusconi, è stata al governo col Movimento 5 Stelle, il PD è stato al governo con Berlusconi, è stato al governo con i 5 Stelle, Fratelli d'Italia è stato al governo con la forza europeista che ha avviato il MES, adesso è no MES. Cioè queste contraddizioni in questo sistema capisco che fa comodo dire che per il Movimento 5 Stelle sono che per il Movimento 5 Stelle... Arrivo, arrivo del Mastro, conclude Ricciardi e vengo da lei. Il leader di Fratelli d'Italia, persone di spicco di Fratelli d'Italia hanno... Da quando è nata Fratelli d'Italia non ha detto uno vale uno, ha vissuto uno vale uno da quando è nata, ecco, e non uno vale l'altro. Allora concluda Ricciardi che poi del Mastro. No, no, dicevo ok, non Fratelli d'Italia, diciamo quello che era prima di Fratelli d'Italia, poi capisco la precisazione correttissima. Però quindi non è che per il Movimento 5 Stelle si debba sempre giocare alle contraddizioni, alla confusione. Il Movimento 5 Stelle in un sistema proporzionale ha detto se raggiungiamo la maggioranza governiamo, se non raggiungiamo la maggioranza andiamo in Parlamento, sottoponiamo un programma senza preclusioni perché il nostro faro è il programma. È stato fatto con la Lega, una parte di programma è stata portata avanti, viene fatta col Partito Democratico. Del Mastro mi dice la sua... Domanda velocissima, risposta velocissima, Ricciardi e Del Mastro. Al di là di quello che Ricciardi si augura e Del Mastro ovviamente si augura, il lavoro di Fico a questo punto secondo lei può portare la definizione di un governo da presentare a Mattarella o alle 9.47 di lunedì mattina tutte le possibilità ancora sono aperte? È evidente che se si comincia alle 9.45 e alle 9.47 sono ancora aperte, è chiaro che c'è tutto un dialogo da affrontare su quelle che sono questioni politiche che sono state messe sul tavolo. Noi abbiamo come condizio sine qua non il Presidente Conte ovviamente e le nostre tematiche programmatiche, quello di non continuare a tirare fuori il Mastro sempre in maniera strumentale perché poi anche il fatto che Renzi chissà cosa chiede, il Movimento 5 Stelle non ha mica votato nulla in questo anno contro i propri principi perché ha dovuto sottomettersi a Renzi. Cioè questo è una narrazione che è completamente sbagliata, non è avvenuta in un anno e non avverrà neanche nel prossimo anno, non è che c'è stato un qualcosa che abbiamo dovuto votare che cambiasse davvero. Ricciardi e poi ci salutiamo. Il tema del trasporto pubblico se per 30 anni si depotenzia il trasporto pubblico e si parcellizza in tutte le regioni dove in alcune regioni funziona bene, in alcune regioni funziona male è evidente che in sei mesi, sette mesi ci puoi investire quanto ti pare, non cambi un sistema che appunto per 30 anni è stato depauperato. La scuola è e rimane il posto più sicuro al suo interno e questo per il grande lavoro che ha fatto la Ministra Azzolina. È chiaro che in tante parti d'Italia c'è questo problema atavico dei trasporti su cui il lavoro è stato fatto ed è stato fatto enorme, ma partire da meno 100 e arrivare a più 100 è uno sforzo che nessun governo sarebbe riuscito a fare. Chiarissimo, allora io debbo fermarmi. Grazie per essere stati con noi in questa mezz'ora, ringrazio Ricciardi.